Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Domani mattina è previsto uno sciopero regionale del trasporto pubblico di 4 ore. Tra le 9 e le 13 saranno possibili stop sulle linee di Atac, Roma TPL e Cotral. Per quanto riguarda la rete di Atac, lo sciopero non riguarda però 11 collegamenti bus dati in subaffidamento. Si tratta delle linee 021, 043, 77, 113, 246 e 246P, 319, 351, 500, 551 e 718.